Una delle favorite della scorsa estate, seppur con i gradi di matricola contro l'autentica rivelazione della stagione, il campionato di eccellenza si appresta a vivere la sua puntata più emozionante, fondamentale, forse addirittura decisiva, a vetrana da una parte, fasano dall'altra, seconda contro prima dunque. L'appuntamento è fissato per domenica prossima sulla terra abbattuta del Celesino La Serra a partire dalle ore 16. Il fattore campo è a disposizione dei tarantini partiti a fari spenti e capaci, dopo un girone d'andata, oltre ogni più rossa aspettativa, di ripetersi anche dopo il giro di Boa. La classifica, invece, per il momento sorride alla realtà fasanese, costruita per un campionato di vertice ed ulteriormente rinforzata durante la sessione invernale del mercato. Gli uomini di Giuseppe La Terza hanno due punti di vantaggio sulla vetrana quando mancano 180 minuti al termine della stagione regolare. I primi 90 saranno decisivi soltanto in caso di vittoria del fasano. Un eventuale pareggio, invece, lascerebbe le posizioni di classifica cristallizzate e rimanderebbe il verdetto finale dell'ultima giornata quando in programma ci sono due scontri diretti, fasano contro Casarano e Gallipoli a vetrana. Stesso discorso in caso di vittoria dei padroni di casa che opererebbero però il sorpasso in vetta alla graduatoria. Una cosa è certa, le due contendenti non devono dipendere dai risultati degli altri, ma sono entrambe artefici del proprio destino. Capitolo, formazione a vetrana al gran completo per il gigbatch della 29esima giornata. Nel fasano, invece, il febbricitante di rito sarà recuperato. Ide morga dopo l'infortunio, Montaldi dopo la squalifica. In dubbio, invece, Fumai, mentre lo juniore sdevitta sarà molto probabilmente out. Capitolo, tifosi. Il settore riservato ai sostenitori della vetrana sarà sold out. Quello destinato agli ospiti resterà invece vuoto. I supporti sfasanesi, a cui erano stati assegnati 100 biglietti su una richiesta, fanno sapere della società presieduta da Franco D'Amico di circa 1500, hanno scelto per protesta di non seguire la squadra in trasferta. Inevitabile la polemica sull'argomento, ma i dirigenti della vetrana precisano che è una decisione della prefettura non nostra. All'andata finì uno a uno al Vito Corlo. Storia vecchia, in ogni caso, quella nuova sarà molto più importante. Storia vecchia, in ogni caso, la nuova sarà molto più importante.